Si ragazzi, nuovo bundle gratuito per alcuni giocatori Ora in questo momento è disponibile qui su Fortnite Si appunto ragazzi abbiamo delle nuovissime novità Bundle skin gratis, molta roba Emote, delitaplani, bricconi, roba su Goku Molta bellissima roba in questa season Come ad esempio il mini pass battaglia E molto altro, quindi oggi andremo a scoprire tutte le novità Ragazzi io direi di partire con una skin gratuita Proprio questa qua che si può ricevere attraverso l'evento Inoltre ragazzi per tutti i giocatori che avevano fatto almeno 8 punti Non gli è stata data appunto la copertura che si vedeva nell'immagine Ma un emote Sto parlando di questa che si chiama Showtime E appunto è stata data il posto appunto di dare quella copertura Ma probabilmente non è sicuro l'Epic ha deciso di cambiare questa ricompensa E di aggiustare Boh a me sinceramente piace più le limotte anche a voi E se ora anche voi volete ricevere una skin gratuita Andate a lasciare un bellissimo like in questo momento Cosa importantissima da fare E vai anche ad iscriverti attivando la campanellina Quindi fa l'ora mi raccomando Ragazzi fate l'ora Inoltre ragazzi abbiamo il nuovissimo fumetto Tutti quelli che andranno ad acquistare il fumetto appunto Guerra Zero con la Marvel appunto la collaborazione che è stata fatta Il numero 4 riceveranno appunto questo spray Sarebbe anche uno spray che si abbina decisamente con appunto con la crew di quest'anno Quindi eh cioè di questo mese scusate ragazzi Quindi possiamo dire che insomma alla fine ci sta Ed inoltre si potrà ricevere gratis appunto questa skin Appunto la skin di Iron Man non è proprio questa Perché sarà leggermente diversa Però diciamo che andremo a bloccare questa skin gratis Quindi se anche tu vuoi ricevere skin gratuita in questo momento Vai a lasciare un bellissimo like Ora mi raccomando cosa importantissima che devi fare E poi mi raccomando iscriverti attivando la campanella delle notifiche Quindi ragazzi condividi questo video Cioè ragazzi vai lo resto per morire